Bene, voltiamo pagina e continuiamo a parlare questa volta ancora dei saperi e i sapori della nostra provincia per andare a Istrana, comune che si candida a Città del Formaggio, ma poi anche per lanciare un grande evento dedicato al radicchio rosso di Treviso IGP e dal mercato in grande fermento ed evoluzione. Produzioni casearie come simbolo di identità, cultura e sapere. Proprio per questo la festa dell'agricoltura di Istrana ha celebrato il comparto con la consueta cena di gala che ha chiuso il concorso dedicato ai formaggi di fattoria, giunto quest'anno alla dodicesima edizione. In concorso non solo formaggi ma anche yogurt, ricotta e poi prodotti caprini e un'attenzione particolare alle piccole produzioni locali. Siamo 70 formaggi rappresentanti da 27 aziende e quest'anno daremo anche un riconoscimento al progetto PPL. Siamo partiti con la manifestazione provinciale, alcuni anni fa, e dall'anno scorso l'abbiamo estesa tutti i produttori del Veneto, abbiamo una rappresentanza di tutte le province, escluso Belluno, in quanto lasciamo a loro sviluppare i concorsi per la Malga. Io ho avuto modo la settimana scorsa di assaggiarli personalmente e mi sono reso conto della crescita dei nostri produttori, perché il concorso porta alla crescita. Questa è la dimostrazione di quello che abbiamo sempre sostenuto. Il concorso dedicato a chi produce trasforma il latte nelle loro aziende e le realtà, quindi che riescono a chiudere la filiera e proporre sul mercato un prodotto di ottime qualità. È andata benissimo quest'anno, veramente dopo ci ha aiutato anche il tempo, ma abbiamo avuto argomenti molto interessanti. Dall'anno scorso anche la transizione energetica e soprattutto il concorso formaggi e che stasera alla cena di Gala ci sarà anche la promozione delle fattorie. Una cena che ha chiuso il sipario sulla 45esima edizione della festa dell'agricoltura di Strana. Attraverso le degustazioni guidate si vanno a promuovere le nostre eccellenze del territorio, i nostri prodotti, chiaramente principalmente i formaggi. Siamo riusciti anche a riportare gli animali, ecco in fiera, quindi la mostra zootecnica, la rassegna a cavalli, sicuramente è stata una gioia per tutti, per cui direi grande successo, grande lavoro di tutti i volontari, lavoro di squadra con i produttori e tutto il territorio.